bravo, io salto e poi mi giro e tirano vedete, ho sentito qua, ho sentito pam, pam provo, stai piano piano sinistra andrà sotto contro qui, qui sinistra va hop, qui adesso quello che fai, guarda, tu devi metterti con spalla sinistra adesso, a significa tira di terra e coprirmi bene con gamba destra tirando fuori e questa gamba ganільки si gira poi risorto copri, 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 copri 進 zarizzo braccio in pienowonto profondo Fai a posto, questa è libera, fai presa, fatta, si, ok, ok, adesso fidi in triangolo, già fatto, si, fatto, si, aspetta anche stia il scappo, tira bene, si, stira, tira, adesso tutto fai con, ok, ok, va a prender, qui, va a prender, può no, l'aero così, l'aero così no, l'aero così e poi quando mi stiaci e poi quando mi stiaci e poi quando mi stiaci quando mi stiaci quando mi stiaci quando mi stiaci e non farai questa presa non farai niente presa deve rimanere non sono ancora colate qui sulle copri aspetta che provo così basta che io non faccio così adesso devi pensare un po' perchè questo braccio devo andare di là, di là, di là aspetta, prima di tirare schiaccia bene fai il triangolo schiaccia bene tra le gambe che io non scappo e tu prima magari fatti così anche adesso anche spalla e lì perché giravi così? no, no, giravi così no, no, giravi così e per questo che senti senti qua dietro? no, no, io mi giravo al sinistro adesso ci muovo quando mi spavano adesso va andare guarda 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 l'alimentazione un cardo io mi giravo qui, qui io non mi giravo, vedi anche il braccio è quasi uscito non mi interessa questa cosa, mi interessa fare questa cosa adesso si sente, adesso si è di fatto hai sentito? si è vero l'unica cosa male è che mi sento che si spalla si, però non funziona, perché non mi piace però niente, si deve provare a trovare tradizioni anche bene se magari metti una consiglia ci sarà Pantillo e sono subito però Pantillo può schiacciare anche voi o non metti e posso stare anche subito no, questo braccio non deve stare qui perché è subito, è subito si, basta fissare si, hop, so, 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 tu non hai fatto salto no, avevo già fatto no, questo sono le tue parole salto, compreso no, 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 non stai inventando niente solo questo movimento pulito salto, compreso dai, hop, torna torna con questo ginocchio poi tu devi girarti capis, si ? si, si, questa ginocchia tu usa guarda come guarda come vai io sto girando con questi ginocchi è girando, vedi? no, no, ha tirato gamba, importantissimo coprire con gamba la gamba deve essere con il gancio la gamba deve essere strida così, guarda strida, guarda non lo sanno non l'acqua, guarda io andro si stai, guarda io mi edo, ah ecco sono sicacamente di girarci adoro tutti girarci e coprire con gamba quando si stai tiramme, tiramme oppi ecco ecco Prova a spingere con questa gamba, è con destra piega, avvicinandomi, hai capito? Tu stai usando muscoli di gamba, spiacciono, si fanno così, e i muscoli di braccio si tirano, in senso sticiare non stai avvicinati. Troppe movimenti, non stai avvicinati, non stai avvicinati. Non stai avvicinati, non stai avvicinati, non stai avvicinati. È un luogo, Lehafy, non stai avvicinati, dove divino non stai avvicinati. Un повтор di normale, non stai avvicinati, non stai avvicinati. Ah, 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 ah. Senta, 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 senta. Ancora, vai, 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 vai. Diciamo, non è così facile, diciamo, se lui... ...diasso, sentito, 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 che lui vuole. ...vogli, vuole, sì. ...notice, vediamo. ...notice, vediamo. ...notice, vediamo. ...notice, vediamo. ...notice, vediamo. Allora, non qua. ...e guarda... Sì, guarda come fate, bene? Guarda qui, guarda qui Guarda qui, guarda qui Guarda qui, guarda qui Se tu vomito, magari un po' qui Stai uscendo Io devo attacarti qui Guarda 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 qui a 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